Nuovo appuntamento con ASI World a partire dal lunedì 19 settembre Sibillini ed intorni, circuito tricolore sugli scudi Circuito del Chienti e Potenza, la presenza degli appassionati delle due ruote è garanzia di successo Festa della Trebbiatura, un grande spettacolo tra cultura, territorio e mezzi agricoli che hanno segnato la storia del nostro paese Ricordate, ASI World è visibile su Sky Sport canale 229, sul digitale terrestre al 402, su TVSAT 55 è visibile in replica quotidiana e sul web a partire dal martedì Grazie a tutti